CMF Green Tech, nata da un progetto di ricerca, è qui a Ecomondo per presentare una nuova tipologia di biomateriali. Sulla base di un legante di nostra brevettazione completamente naturale svincolato alla filiera del petrolio e con l'unione della biomassa di canapa, abbiamo qui portato alla città sostenibile il canapalitos, un materiale di nuova generazione, naturale, rinnovabile che ha delle ottime applicabilità nella bioedilizia. Qui a Ecomondo vediamo due esempi di stratigrafia completi, realizzati completamente con il nostro materiale e con materiali sempre a base di canapa a completamento. I materiali chiaramente sono sostenibili, rinnovabili ma hanno anche delle ottime performance sia termiche che acustiche e sono perfetti per un'edilizia di nuova generazione, a secco, con tempistiche di esecuzioni brevi ed efficaci. Tramite il nostro legante naturale pappa reale e il nostro processo tecnologico siamo stati in grado di conglomerare svariate tipologie di materiali. Biomasse di risulta dalla produzione di food, quale paglie di grano, di grano turco, ma anche materiali quali cascami di lavorazione o prodotti di risulta da smaltimento, quali vetroresine, fanghi di cartiera o polvere di poliurettano dello smaltimento dei frigoriferi.